E' morto purtroppo un uomo, un anziano di 91 anni, che viveva nella casa dove si sono sviluppate le fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21 di ieri sera per intervenire al quarto piano di un condominio in via Arrigo Boito. Purtroppo per l'anziano i sanitari inviati dal 118 non hanno potuto che constatare il decesso, probabilmente per una intossicazione. Sul posto due squadre, cinque automezzi, un totale di 16 vigili del fuoco e l'appartamento è stato dichiarato inagibile. E c'è un altro incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri all'interno del reparto psichiatrico dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. E' stato domato dallo stesso personale, nessuno per fortuna è rimasto ferito. I locali interessati sono però tuttora inagibili e c'è stato il trasferimento o la dimissione dei 12 pazienti presenti. Efficaci sono risultati i sistemi di rilevazione fumo proveniente dalla cucina del reparto con conseguente allarme. Questo ha permesso di attivare subito le procedure anti-incendio. Ora è rimasto da capire l'origine dell'incendio. Ha ripetutamente venduto alcolici ad una ragazzina non ancora 15enne. E per questo ieri sera i vigili urbani del nucleo operativo di sicurezza urbana di Pisa hanno eseguito un blitz in un mini market del centro storico sanzionando il proprietario straniero e proponendo alla questura di adottare il provvedimento di sospensione della licenza dell'esercizio commerciale. I controlli degli agenti della Polizia Municipale si sono concentrati nelle ore notturne nelle zone della Movida. Il blitz è scattato dopo la denuncia proprio della madre della ragazzina che nei giorni scorsi ha visto rincasare la figlia completamente ubriaca e si è fatta raccontare dove aveva acquistato gli alcolici. Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di Ashish che aveva nascosto negli slip. Per questo un 25enne è stato arrestato dai carabinieri lungo la provinciale 65 della Futa a Novoli frazione del comune di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze. Il giovane viaggiava a bordo di un'auto insieme a un'altra persona. Alla vista dei carabinieri i due avrebbero cercato di eludere il controllo e per questo poi la vettura è stata fermata e sono scattati gli accertamenti. Vediamo ora la situazione Covid in Toscana. Ci sono 2044 nuovi casi di positività, l'età media 56 anni, il tasso dei nuovi positivi è del 17,64%, quindi risale di circa due punti percentuali rispetto a ieri. Purtroppo si registrano altri 13 decessi, 7 uomini e 6 donne, l'età media 85,1 anni, residenti nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Arezzo, Siena e Grosseto. Tornano invece a calare i ricoverati. Maltrattamento in famiglia nei riguardi della molle e delle due figlie è l'accusa per la quale un uomo di 47 anni è stato arrestato nel Livornese dai carabinieri. I primi segnali delle contestate condotte violente, divenute poi abituali e sistematiche, sarebbero già emerse nell'estate 2021, quando moglie e figlie sarebbero state costrette a fuggire dal paese di origine della famiglia, dove erano in vacanza, per fare ritorno in Italia, dove vivono stabilmente da anni. L'estate scorsa il giudice aveva emesso un ordine di protezione nei confronti delle donne con l'allontanamento del presunto autore delle violenze dalla casa familiare e di vieto di avvicinamento a moglie e figlie trasferite poi in una struttura protetta. Appello alla neo premier Giorgia Meloni dei comitati di cittadini che si oppongono al rigassificatore a Piombino, che dicono le chiediamo cortesemente di interessarsi alla nostra vicenda, di proporre al commissario Gianni di sospendere momentaneamente ogni determinazione sul rigassificatore, in attesa che il nuovo ministro della transizione ecologica e dell'ambiente sia informato delle questioni emerse e delle gravi criticità denunciate. E a proposito del nuovo governo, non risulta esserci alcun ministro toscano. Io parlo con i miei colleghi francesi e tedeschi, anche loro hanno gli stessi problemi nostri, credo che ci vorrebbe un atto di realtà a livello europeo e dire che forse va riconfigurato il PNRR, a dirlo Bonomi di Confindustria. Nuovo disagio per gli automobilisti. Un incidente si è verificato oggi intorno a mezzogiorno sulla Firenze-Pisa-Livorno nel tratto di strada in direzione Firenze, tra Santa Croce-Sull'Arno e San Migliato. Autostrade ha reso necessaria la chiusura del tratto stradale interessato. Il mezzo incidentato sarebbe un camion che avrebbe perso il carico nella corsia di sorpasso. Vediamo ora insieme le previsioni del tempo per domani in Toscana. Nuvoloso, tendenza alle schiarite nel pomeriggio. I venti di scirocco moderati con locali rinforzi sulla costa, invece deboli altrove. i mari trammossi e molto mossi e infine sul fronte delle temperature stazionarie o in lieve aumento le massile. I valori sono di 5 e anche 7 gradi superiori alle medie del periodo. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti. Arrivederci e buon proseguimento di serata con Toscana TV.